avrei davvero voluto fare uscire prima questo video e sì perché come sicuramente ricorderai mercoledì scorso ho dovuto stravolgere la mia scaletta per fare uscire in fretta e furia quel video relativo a quella minaccia di chrome che tra l'altro ti informo sta continuando ad espandersi a macchia d'olio e se non hai ancora messo al sicuro il tuo computer ti invito a farlo quanto prima purtroppo però non sono riuscito davvero a trovare il tempo per anticipare questa registrazione e quindi lo vedrai sabato come al solito ma di che cosa parliamo nel video di oggi beh oggi ti voglio parlare di un vero e proprio salvavita un programma che non deve assolutamente mancare in nessuno dei nostri computer e in nessuna delle chiavette che ci portiamo in tasca si tratta di un programma che è in grado con un solo clic di riparare praticamente qualsiasi errore di connessione sia alla rete locale sia ad internet naturalmente a patto che il problema dipenda dal nostro computer e adesso scommetto che vuoi conoscerlo anche tu allora ti senti pronto iniziamo ed eccoci qui come sempre sarà molto facile andare a procurarci il programmino che ci serve quello che faremo sarà sempre lo stesso cioè apriremo il nostro browser di fiducia e nel motore di ricerca andremo a digitare gentiluomo digitale per portarci sul sito del nostro canale effettuiamo la nostra ricerca e come sempre il primo risultato sarà quello che ci interessa quello relativo al dominio appunto gentiluomo digitale punto it andiamo a farci clic su e si aprirà la pagina del nostro sito come ormai saprai tutti quanti i software si trovano nella sezione downloads quindi andiamo in alto nella sezione downloads e facciamoci un clic una volta che si aprirà la nostra pagina ci basterà scendere un pochino e qui troveremo il nostro file che si chiama complete internet repair per scaricarlo faremo clic sul pulsante azzurro file download e il file verrà scaricato in tempo rapidissimo sul nostro computer eccolo qui andiamo ad aprire questo file compresso facendoci doppio clic e possiamo chiudere il browser estrarremo quindi l'installer di questo programma trascinandolo semplicemente sul nostro desktop chiudiamo la cartella che lo conteneva e facciamo doppio clic sul file per andare ad installare il programma accettiamo che vengano apportate modifiche al sistema cliccando su sì e vediamo che partirà il programma di installazione dovremo cliccare su i accept the agreement e quindi sul pulsante next a questo punto possiamo scegliere di creare uno shortcut cioè un collegamento sul nostro desktop andando a selezionare questa casellina qui purtroppo il cerchiolino in questi casi ci abbandona ma noi ce ne faremo una ragione clicchiamo quindi sul pulsante install per proseguire con la nostra installazione al termine andiamo a spuntare launch complete internet repair che il nome di questo programma e clicchiamo sul pulsante finish nuovamente ci viene chiesto di acconsentire che vengano apportate modifiche al dispositivo e anche in questo caso cliccheremo sul pulsante sì ed eccoci qui nel nostro programmino prima di proseguire tuttavia vorrei farti una rivelazione davvero molto importante prima dell'inizio di questo video ho manomesso questo computer niente di eclatante e niente di grave anzi al contrario qualcosa di difficile da rilevare anche per un tecnico quello che sono andato a ritoccare si chiama MTU che sta per maximum transmission unit che cos'è la MTU è un parametro di internet che consente di velocizzare se ottimizzato una connessione e al contrario di rallentarla se questo non è ottimizzato quindi prima di andare a riparare questo computer cosa facciamo apriamo nuovamente il nostro browser e andiamo a fare un test di velocità di questa macchina utilizzando il software Ucla faccio quindi una ricerca per Ucla speed test vado sul sito dello speed test di Ucla ed effettuo un controllo di velocità ti premetto che le differenze potrebbero essere relativamente minime questo perché perché come vedi anche quando ho scaricato il file dal nostro sito del canale non ci ho messo più di tanto tempo ma quello che voglio vedere è se ci sarà comunque un miglioramento dopo aver utilizzato questo programmino ti premetto anche che per il resto questa è una macchina completamente nuova appena formattata ed installata quindi altri grossi problemi non dovrebbero essercene a rigor di logica ed ecco qui il nostro test è praticamente terminato e i risultati sono questi già abbastanza buoni di per sé quindi senza chiudere il browser questa volta vado a minimizzarlo e torniamo sul nostro programmino quello che ti consiglio di fare è andare a disabilitare l'ultima voce quella che dice make network computers visible in file explorer se non ti trovi in una rete locale cioè se non hai altri computer in casa tua o nel tuo ufficio con cui hai bisogno di interscambiare dati ti consiglio di togliere solo quest'ultima voce questa qui quindi facciamoci click su andiamo a toglierla e andiamo a cliccare sul grosso pulsante go per iniziare ad effettuare i controlli sul nostro computer ci metteranno meno di un minutino ecco fatto il programma ha terminato probabilmente ti sarai accorto che ha segnalato alcuni errori questo è normalissimo e succede sempre non deve essere motivo di preoccupazione per te proviamo a chiuderlo a questo punto e ci viene ricordato che possiamo volendo fare una donazione ai creatori del programma chiudiamo anche questa finestrella e andiamo a fare un secondo test di velocità di internet come puoi vedere qui ci sono ancora i vecchi valori 174 e 19 e 190 e 89 per l'upload quindi riapriamo lo stesso sito andiamo nuovamente a cercare ucla speed test lo cerco dalla cronologia di ricerca e riapro lo stesso identico sito e a questo punto clicco sul pulsante vai per fare una nuova prova vediamo se è cambiato qualcosa o meno dopo l'intervento di questo programmino e beh direi proprio di sì come vedi la velocità è arrivata a quasi 850 anzi un po' più di 850 in download e per quanto riguarda l'upload invece è rimasta sostanzialmente sovrapponibile molto bene allora andiamo a rifare un confronto con i dati precedenti quindi i dati precedenti erano 174 e 190 mentre dopo l'intervento di questo programmino siamo arrivati ad 850 e ben 191 direi proprio niente male e prima di chiudere ci sono un altro paio di piccole cose interessanti che volevo mostrarti riguardo a questo programmino innanzitutto nella sezione maintenance troviamo la possibilità prima di utilizzarlo di creare un punto di ripristino questa è una procedura estremamente consigliata per evitare problemi nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto nell'uso del programma quindi è buona norma differentemente da quello che ho fatto io ma solo per scopi dimostrativi creare un punto di ripristino prima di utilizzare questo programma poi abbiamo la sezione troubleshoot la sezione troubleshoot è una sezione che serve ad indagare problemi specifici sul nostro computer abbiamo una diagnostica di rete una diagnostica del nostro adattatore di rete quindi della nostra scheda di rete ed altre utilità interessanti compreso uno speed test anche se personalmente preferisco fidarmi di quello di Ucla che nel tempo ho visto essere quello più affidabile e per concludere nella sezione tools abbiamo alcuni strumenti che però sono di secondaria importanza e non meritano una particolare menzione nell'ambito di questo video devo dire che l'utilità di questo programmino non è assolutamente da sottovalutare devo ammettere che una volta non sono assolutamente riuscito a fare una diagnosi di cosa non andasse sulla rete di un pc ed è bastato un singolo click con questo programma per risolvere il problema anche se devo ammettere che tuttora non sono ancora riuscito a capire cosa fosse successo e non so se si vede che sto arrossendo in questo momento ma cambiamo discorso e parliamo di te e del fatto che ti sono molto grato ti sono molto grato perché anche grazie ai tuoi suggerimenti nella community come ai suggerimenti di tutti gli altri e alla partecipazione al forum e a tutte quante le attività stiamo riuscendo a far crescere davvero in maniera solida questo progetto tutti quanti insieme la cosa mi rende davvero molto felice bene siamo giunti per davvero al termine del video e non mi resta che ringraziarti di nuovo anche per averlo visto e darti appuntamento come sempre alla prossima